Ritorniamo in diretta dunque ai tanti motivi di riflessione che questa giornata 21 giugno ci sta consegnando ne vogliamo aggiungere un altro importantissimo perché oggi è la giornata nazionale per la lotta contro le malattie del sangue promossa dall'associazione italiana contro le leucemie, linfomi e il mieloma e vogliamo parlare di una iniziativa molto bella, molto interessante che coniuga questi aspetti a quello della natura e allora per questo motivo io voglio salutare il dottor Giuseppe Navoni presidente della sezione AIL di Brescia che ci parlerà di questo progetto che ha già il nome che fa sognare perché Sognando Itaca è davvero un qualcosa che ci riporta a lì di davvero molto molto belli buongiorno dottor Navoni e grazie per essere con noi buongiorno a lei telespettatori allora partiamo dall'inizio dottor Navoni il progetto Sognando Itaca, questa velaterapia, questo progetto di riabilitazione psicosociale per pazienti con tumori del sangue, da dove nasce e perché nasce? Nasce sul lago di Garda diversi anni fa dall'intenzione di un paziente Andrea che ha provato su se stesso le emozioni, le sensazioni che gli regalava la barca a vela ha utilizzato la velaterapia con grandi risultati accompagnati dall'equipe di medici, infermieri, psicologi e si sono svolgono dottor sugli laghi lombardi e poi grazie al professor Matteni, grande matologo sul Passo e anche attualmente il nuovo presidente C'è stata data la possibilità, dopo la pandemia, di riprendere il viaggio anche a livello nazionale, quindi sognando Itaca. Sognando Itaca significa sognando il ritorno a casa, che oggi sempre più è un sogno che porta poi al risveglio con un risultato di guarigione vera. Di guarigione vera, perché oggi l'80% dei bambini guariscono e in base alle malattie si riaggia tra il 50-60% fino al 70% degli adulti in base al tipo di leucemia o al tipo di linfoma che il malattia ha incontrato. Questo progetto d'Equipe è molto bello e molto importante e quest'anno siamo partiti da Trieste in 10 giugno e scendendo lungo l'Adriatico, toccando le tappe di Venezia, poi Ravenna, Rimini, Pesaro, Ancona, Pescara. Ed ora stiamo arrivando, la barca sta arrivando a Trani e per poi chiudere il 23 a Brindisi. La novità di quest'anno importante è che oltre alla debilitazione psicologica attraverso la vera terapia, portiamo altri due temi, altri due messaggi importanti per gli italiani, per gli ammalati, ma anche per tutti i cittadini. Sono quelli della tutela dell'ambiente, quindi l'ambiente salute è un binomio sentibile e noi abbiamo visto che purtroppo l'inquinamento e la malattia che ha il mare, che ha anche la terra, comporta un'ulteriore presenza di tumori, tumori del sangue e tumori solidi. Per cui è molto importante prendersi cura del mare, che è terapeutico sì, per aiutare a far provare grandi emozioni, ma se queste emozioni le provano in un mare pieno di plastica, di micoplastica, è francamente prostrato dall'albinamento, non giova alla salute dei pazienti, neppure dei cittadini. Dottor Navoni, voglio dare qualche numero anche per focalizzare l'attenzione su quello che è l'impegno non solo dell'AIL di Brescia, ma più in generale di tutto il movimento italiano. 83 sezioni coinvolte nella promozione, 3 conferenze stampa dedicate, 10 città coinvolte, lei le ha citate, adesso siete in viaggio verso Trani, ecco anche perché vediamo la telecamera del dottor Navoni muoversi. 300 partecipanti tra pazienti ed accompagnatori, 2.000 persone presenti alle iniziative, 4.000 flyer destinati alle sezioni territoriali che organizzano Unita Cadei e 50.000 folder della giornata nazionale distribuiti a tutte le sezioni AIL e nei centri di ematologia. È un impegno importante che presuppone anche un'organizzazione capillare che è anche affiancata poi tante volte alle persone che sono ammalate. Da questo punto di vista voi come vi muovete? Assolutamente è una grande organizzazione che coinvolge tutte le sezioni italiane, ma non solo quelle affacciate sull'Adriatico che andiamo a toccare, ma anche quelle del Tirreno e dell'Orionio, perché ci sono altre iniziative in altre città, sempre sul mare, e poi ci sono iniziative sui laghi, iniziative anche sul territorio con dei cammini, del trekking, che anche questo è terapeutico verso i pazienti. In una grande simbiosi, diciamo così, dove la riabilitazione psicologica, dove la natura, che è terapeutica, e quindi queste iniziative vanno a portare dei messaggi forti. Quest'anno, come dicevo, oltre l'ambiente e la riabilitazione si è aggiunta anche all'alimentazione e salute. Quindi l'abbiamo visto partendo dagli ospedali, all'alimentazione dei pazienti, che stanno purtroppo per un lungo periodo ricoverati in ospedale, rispetto ad altre patologie dove hanno dei tempi di degenza molto brevi. I tempi purtroppo sono molto lunghi, quindi è importante alimentarli correttamente, in modo che recuperano il prima possibile, ma questa alimentazione va migliorata anche a casa. E ovviamente il messaggio di una corretta alimentazione, di diventare i consumatori consapevoli, va allargato alle famiglie, va allargato ai cittadini, perché oggi abbiamo bisogno di mangiare sano, mangiare correttamente, sapere, trovare anche la provenienza dei prodotti, ma soprattutto prodotti che vengono sia da terra sana o dal mare, che non sia troppo inquinato. Quindi è molto importante proteggere il nostro ambiente per il futuro, ma anche per la nostra salute. Senta, dottor Navoni, come si svolge una giornata in barca a vela? Ce lo spieghi? Beh, intanto devo ringraziare l'Equipaggio, un'equipa composta da skipper, da un infermiera, da un medico, da un psico-oncologa. E beh, la vita non è facile, perché dopo l'uscita con i pazienti nella città che andiamo a toccare, dopo la conferenza stampa, per divulgare queste tematiche importanti, c'è il trasferimento per la tappa successiva, quindi si viaggia anche di notte. È una fatica che viene fatta volentieri, perché il cuore si riempie di gioia quando vediamo il sorriso e la gioia dei pazienti è estremamente contagiosa. E la soddisfazione, anche se c'è un po' di stanchezza, è grande, veramente grande. L'ultima domanda che voglio farle, prima di lasciarci, è quale immagini le restano prima e dopo ogni tappa? Le immagini sono tante, la passione, la passione di tanti volontari e presidenti AIL che lavorano quotidianamente per stare vicino, per supportare i malati con le iniziative locali, le case di accoglienza, l'assistenza domiciliare, tantissime persone di trasporto dei malati, le attività che svolgono le sezioni AIL provinciali italiane. Ma la cosa che ti rimane nel cuore è l'abbraccio e il sorriso dei pazienti, perché scendono dalle barche che accompagnano la nostra imbarcazione, perché anche altre barche escono, grazie alla disponibilità di armatori locali, a fare da contorno, con appoggio anche delle istituzioni, di guardare costiera, i carabinieri, eccetera. E ecco la gioia di questi malati, i loro occhi felici, con qualche lacrima, anche perché le emozioni che provano rimangono nel cuore per sempre. Dottor Navoni, allora io la ringrazio di cuore per essere stato con noi e anche se il collegamento in questo viaggio non è stato dei più comodi, abbiamo davvero approfondito in maniera, direi, utile questo progetto molto interessante. Le auguro un buon ritorno ad Itaca. Grazie, grazie e buon vento a tutti. Grazie, grazie. Ringraziamo il dottor Giuseppe Navoni per la sua disponibilità a parlare di questo progetto, davvero molto interessante. Avete visto anche nel nostro ledduole in onda i siti internet di riferimento per chi volesse approfondire ovviamente tutte le tematiche relative a questo progetto dal nome così evocativo, lo stiamo rivedendo in questo momento. Può ovviamente digitare su internet le parole chiave Sognando Itaca e troverà tutti i riferimenti. Noi adesso ci fermiamo per la pubblicità e poi ritorneremo ancora insieme.